Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Furio Bonsai. Oggi video è un po' diverso perché non vi farò vedere piante mie, non farò delle lavorazioni, ma vi farò vedere delle piante di altri, delle piante veramente molto belle che ho visto in due mostre. La prima mostra di cui voglio parlare è quella che ho visitato a Foligno, organizzata appunto dal club Bonsai di Foligno. E la seconda invece è quella organizzata al Vivaglio Santino sulla Cassia a Roma Nord. Tra pochissimo vi metterò le foto in modo da farvi vedere, anche per chi comunque non è potuto venire, non ha potuto assistere alle mostre, può comunque vedere le piante che c'erano. Veramente consiglio a tutti di visitare delle mostre, se ne avete la possibilità, perché vi permette di vedere qualcosa al di fuori magari di quello a cui siete abituati. Magari vedere sempre le vostre piante, vi mantiene a un certo livello, guardare le piante di altri, prendere ispirazione, vi può portare a un livello superiore. Quindi io ho tratto insegnamento da queste mostre, ho osservato nel dettaglio come erano stati costruiti i rami, lavorazioni sul secco. Sono tutte cose che porterò nel mio bagaglio culturale bonsaistico. Oltre per il fatto di poter vedere degli esemplari di piante veramente magnifici, partecipare alle mostre secondo me può essere molto utile anche per socializzare e conoscere qualcuno che condivida la tua passione. Non è facile comunque trovare persone con la passione del bonsai, io in primis lo sperimento tutti i giorni, e quindi magari andare in posti del genere ci può permettere di incontrare delle persone che condividono la stessa cosa e fare anche due chiacchiere. Quindi secondo me ne vale la pena, se potete andateci. Comunque non mi dilungo in troppi discorsi perché il video non vuole essere questo, ma voglio farvi vedere tutte queste piante. Quindi spero che questo video vi interessi e buona visione. Se vi piace quello che faccio, se lo trovate utile, mi raccomando vi chiedo di supportarmi magari lasciando un mi piace o iscrivendovi al canale. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.